Muzica una fattura non ho un palo di buste mando tutto io svuota il Friese c'è passaggio sicurato sopra questo diesel guardando treni sono tornata ieri no pensieri tutto è meglio vieni spesso i miei problemi troppo me la meno io voglio 1-6-0 you know what I'm saying mando tutto io svuota il Friese c'è passaggio sicurato sopra questo diesel Adoro il Friese mi ha detto il Friese è tutto il momento il Friese è il fatto è proprio l'olico L'olico Monshiu l'olico questi parli si no? état slappondimi ragazzi le quelle posto Sì, non si può andare a fare l'alba, non si può andare a fare l'alba. ему ha dato isa se non aveva son certainly che AZZitteri si ci sono messi ah si ma free tio C'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è? E' una cosa che si trovi e ho? Non so se ne gievo... Si, non dice la radio Hai! Hai bai? Awoi are you? Hai bai Che ha scambio! Ma va.. Rappoi, che ancora sui sui ratti? Hue, che che sono? Rappoi e lui. Rappoi, che non mi ha mai mai bambi come sempre C'è probabilmente che chiacchino con un po' più male, ma questo è un po' più grande. Oh no, fa capisco Poi, come stai con lui Non si, puoi? Sì, puoi? Ma, tu, tu heavily abdiegli? Ma, tu non mi pudi? Ma, qui? Ma, il c'è qua, tu non hai detto? Cosa? è molto importante Centro Centro N�ro Cosa Cosa. É che fai Cosa Cosa Non Cosa Cosa Non Non I Johanna mi chiede! Si chiesto nella mia privera! �anna mira! Sì! Se cercare la cosa. Sì! Sì! Rai! Questa e! Vieni a scoprire i suoi minuti. Io lo думаю che corpano il rischio Adesso che ci sanno Sì! Ok, vabbè, 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 vabbè Oh no, il ciò Non è un giocato Così, c'è un giocato Dai, non c'è un giocato Non si, non c'è il quinto Non hai da oltre maschi, hai da oltre vettura? Non hai da second che l'oncilla? i amici no, il muss viena ieri non sono i BAs come! Ci sono stati aperti la mia Cosa? Ma non è ancora un buon Cosa? 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 Poi devi con essere il mio figlio E' il mio figlio Non ci hanno fatto Nel mio figlio è venuto Non si pastiche Non ci viene Non ci viene Noi Non ci viene Amore Non ci viene Non ci viene Non ci viene Non ci viene ecco No, non c'è un scrisco Questa! Non è vero, non c'è stare a un'r Arc Non c'è un lacrido Tu li mi col verso tu? Non c'è un lacrido Ci siamo fredD хороший gol Ci troviamo un lacrido Tu sai fredD Ci sono freddi ci sono i commenti tu non ti posso YeDee tu quanto non hai mai Hai 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 mi piace il gioco è un gol grazie fantastico te sei cosa stai c'è mar c'è mar c'è un video Vediò c'è dire Ma lei mi ha fatto C'è l'escrizione? C'è l'escrizione? Ah, Frank! C'è l'escrizione? C'è l'escrizione? Scusi 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 WTF Pagbang Sì, vabbè, 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 vabbè. chiede ok oh hehehe i Fai un'altra parte, come se vede? Mi ha fatto che il QME controllo Voi, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Eh? Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Sì, come uli puoi, ho pensato da un'imittima Hubo! Ma qua ! Ma qua travaillare? Ma qua la lavorare, ah! Questa è la dalle edente dai! Ma qua vediamo la passione! Porra. Prank, prank, prank! Prank, prank! Ma dove hai scopo? Rasterai! Prank, che c'elli! Bello! Mamma è un attimo. È un attimo che hai strumento che hai d'isci! Oh, ma vai, un attimo che hai scopo! Prank, hai im shooter ha no armi. Ciao OOOI La mia letra Poi in tepia Va bene L'escrizione Segui a tepia Non prenderemo Non prenderemo Non prenderemo Non prenderemo Non prenderemo Va bene Grazie a tepia C'è una volta passata Resto a tepia sei la mia sono erano i pensi che siamo a qui oggi abbiamo un posto hanno un posto che abbiamo a qui ci sono i posti che abbiamo a qui di questo tipo di posto non si è rinunciato ma non ci sono i posti che abbiamo in questo tipo di fai No, come veniamo. Come andди a te. No no no, veniamo a Kevin. No, come veniamo a come gioco. Kevin non c'è un bambu. Oh, c'è un TV Torga TV C'è un franck? C'è un franck? C'è un franck? non ci sono 치τεvamo ci sono non li prendi no 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 non li prendi no 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 è che no 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 è Jason no 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 a un carro che no 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 è Hai av�ری perchè vi assi che lei nonoste invece il Caud si vuol dire? Hai con cui piccate ora? Hai cong 12 nove? Stai lì qualcuno che ha detto ascoltato. Lo dopo as��ile andare da pensa Testo e cambia E non c'è certo? Ma ancora ved üzere That's right Ok stop C'è il caso di Jason? C'è un caso che c'è? C'è un caso che c'è il caso di Jason Ado, mi sono andato! Oh no! Oh no! Ado! 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 Anche la loro esprime Non vorrei che vogliono Non c'è uno che vuole Ma io non c'è un'altra cosa Ma non c'è un'altra cosa Ma non c'è un'altra cosa Non c'è una cosa in questo momento Non c'è un'altra cosa Ma non c'è un'altra cosa Non c'è un'altra cosa Allora tu ti vedi più pelli tại qui tu ti vedi se campe genna Ma il mo remember anche?! Sì 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 Non ci sono ancora un po' Cosa? 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 Ciò? Buong maldita! Ciò flor Deli delle direi Sì, ci sono stati ha fatto un primo hai detto che c'è stato un ullo per il hospital hai detto chiamo che ci sono un uomo per uscire un uomo lo studiano che non c'è dire questo, no non è leggero il DDR è iniziare non lo so è un DDR che è un DDR non lo so non lo so è un DDR come l'opera non lo so No, 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 no. Ma ora è sicuro Ado Ado Ado